grazie alla pubblicazione di una serie di racconti antichi che formano una raccolta chiamata bibbia di colmrin nel 1992 da parte di un'associazione che li deteneva segretamente per sottrarli alla distruzione abbiamo potuto entrare in contatto con una serie di racconti che parlano di un misterioso fenomeno celeste chiamato distruttore una sorta di asteroide che sfiora la terra senza diciamo caderci sopra e quindi una serie di descrizioni accurate ci hanno permesso di identificare questo diciamo un fenomeno in tutte altre scritture che già si conoscevano ma in cui questo fenomeno risultava mascherato diciamo il primo di tutti grazie a uno di questi racconti chiamato il diluvio di zisudra scopriamo che il fenomeno dei diluvi è provocato da questo asteroide distruttore poi grazie a uno diciamo un altro di questi racconti veniamo ad appurare che quelle le famose dieci piaghe d'egitto avvenute in occasione del dell'esodo degli ebrei raccontavano tutta la bibbia e anch'esso provocate sono queste dieci piaghe sarebbero provocate da questo asteroide quindi diciamo si è dovuto cambiare la prospettiva rispetto a quello che noi abbiamo sempre chiamato fine del mondo in realtà questa fine del mondo è un evento che avviene a cadenze cicliche siccome la scienza ritiene che è impossibile che un asteroide faccia qualcosa del genere un asteroide naturale siamo arrivati alle conclusioni che deve essere un asteroide di tipo artificiale e quindi abbiamo collegato questo studio al filone della cosiddetta teoria degli antichi astronauti e quindi abbiamo concettualizzato un nuovo filone di studio che abbiamo chiamato l'escatologia scientifica quindi l'escatologia si intende le cose che riguardano la fine del mondo non vista dal punto di vista religioso ma dal punto di vista puramente scientifico in quanto che sarebbe questo asteroide uno strumento che questi extraterrestri usano per modificare la terra e trasportare dell'oro che estraggono altre diciamo scritture in particolare le profezie ebraiche ci hanno permesso di capire che loro in occasione del passaggio di questo distruttore ritornano e utilizzano questo asteroide per diciamo imporre la loro superiorità quindi sono nate altre playlist che qui presentiamo a questo punto dobbiamo far fronte all'osservazione di un noto scienziato matematico pier giorgio di freddi dice le apocalissi sono solo un genere letterario cioè lui dice si va bene ci sono tutti questi fenomeni letterari queste scritture ma non è altro che un genere è diventato di moda qualcuno avrà scritto per primo avrà terrorizzato le persone sufficientemente per indurle a seguire qualche religione ma nulla di concreto e nulla di reale e quindi per fare fronte a queste obiezioni abbiamo cercato nella storia nell'archeologia e nella geologia le tracce che questi passaggi hanno lasciato praticamente realmente quindi abbiamo creato due playlist che raccolgono queste prove una riguarda il passaggio del 1200 avanti cristo in egitto che questa playlist si chiama esodo colbrin e avrebbe lasciato un una traccia molto non una traccia una serie di tracce molto evidenti che dall'archeologia vengono chiamati collasso dell'età del bronzo quindi hanno sarebbero state una catastrofe di dimensione diciamo del mediterraneo che ha fatto cessare molte civiltà e le ultime ricerche sviluppate in sardegna portano ci portano a conoscenza del fatto che un protagonista di questo evento sarebbe stato uno tsunami che ha seppellito in uraghe viceversa abbiamo iniziato a studiare l'evento invece chiamato come diluvio di noè quindi in questa seconda playlist e abbiamo raccolto le prove che secondo noi dimostrano che un evento reale la ricostruzione è stata un po più complessa perché si è dovuto cercare di capire in che modo questa asteroide può provocare un diluvio visto da noè come un allagamento globale e siamo arrivati alla conclusione che si è trattato dello scioglimento dei ghiacci dell'Himalaya quindi questa asteroide passando sull'Himalaya avrebbe sciolto diciamo una grande quantità di ghiacci che si sarebbero riversati prevalentemente in Siberia perché perché verso sud sono stati bloccati da una serie di catene quindi vediamo qui queste catene montuose che avrebbero bloccato dando a noè l'impressione che fosse un allagamento globale e di questo diciamo abbiamo degli indizi per esempio nella mappa di Eratostane che riporta questa catena montuosa che noi abbiamo segnato in basso sembrerebbe che fosse l'unica catena montuosa della terra evidentemente ci ha voluto indicare qualcosa di importante e li chiama i monti del toro e questa linea che viene indicata poi abbiamo fatto altri video per cercare di capire perché li ha chiamati i monti del toro e quindi questo flusso questa quantità di acqua che ha lago si è iniziata ha iniziato a defluire secondo varie componenti quindi una componente cinese che è stata scoperta dagli archeologi una componente greca che ha lasciato una traccia evidente nell'erosione di tutta questa terra di fatti di galico di timo e crizia riportano che in realtà la grecia non era così era una terra tutta diciamo intera che poi è stata dilavata da questi flussi di acqua perché secondo i racconti di timo e crizia i dialoghi di timo e crizia di platone i diluvi sarebbero tanti quindi confermerebbero questa diciamo questa lettura e invece qui in cina e in c'è stato un flusso minore ma c'è stato un flusso di profughi che praticamente sarebbero la popolazione degli ari che hanno praticamente soppiantato gli arappa nella valle dell'india quindi anche qui ci sarebbe una traccia diciamo importante insieme alle altre come per esempio il crollo della civiltà sumera in particolare della dinastia di ur e in questo video di oggi approfondiamo le prove che secondo noi ci sono che questa massa di acqua si è riversata in una componente importante verso nord verso il mare del nord il mare artico già in presidenza abbiamo presentato come prova la mappa di eratostene che indica il mar caspio in comunicazione con il mare del nord questo che significa significa che se essendo questa mappa abbastanza accurata se questo rilievo è reale significa che in tempi storici quindi non milioni di anni fa c'era un grande canale che collegava il mar caspio con il mare del nord il mare di cara quindi c'era un grande flusso di acqua poi quando questo flusso è terminato diciamo il canale si è riempito e sono rimasti alcuni fiumi ma di questo canale in realtà è rimasta una traccia importante che è questo ultimo tratto quindi questo tratto questa specie di fiordo sarebbe il rimanente di questo grande canale che in realtà ai tempi di eratostene quindi parliamo ai tempi di gesù sostanzialmente in realtà era un passaggio importante che collegava il mar caspio con il mare del nord quindi abbiamo la mappa di eratostene la presenza reale di questo fiordo un percorso di bassa quota che effettivamente esiste una serie di catene montuose che avrebbero imprigionato questa massa di acqua e oggi presentiamo un'altra che secondo noi è una possiamo dire un indizio importante che abbiamo identificato seguendo le vicende attuali sui vari gasdotti che dalla russia portano il gas in occidente ci sono vari gasdotti quelli più a nord quelle più a sud ci sono progetti vari per diciamo aggirare diciamo gli ostracismi dei vari stati quindi delle grandi mosse sullo scacchiere politico ecco andando a vedere la logistica di questi gasdotti abbiamo visto che gran parte diciamo proviene da questa zona da questo canale che significa significa che in questa zona ci sono delle grandi masse di vegetali seppelliti qual è il problema che questo canale alcuni potrebbero obiettare no è semplicemente il deflusso delle acque conseguente allo scioglimento dei ghiacci dell'ultima glaciazione ma se questo fosse durante una glaciazione di cerco non ci sono alberi quindi per esserci un grosso deposito di alberi vediamo che questi questo gas si è prodotto proprio nei posti vediamo qui identificano i percorsi di questo deflusso di acqua infatti qui vediamo che c'è un deflusso verso la siberia orientale che sarebbe in queste zone quindi un percorso che vediamo che anche qui c'è una sorta di erosione è un secondo percorso verso il mare di cara anche qui vediamo il fiordo e abbiamo il gas quindi nel mare di cara ci sono degli alberi seppelliti perché il metano è frutto della decomposizione di questi alberi che a sto punto sarebbero stati seppelliti da questa valanga di acqua e fango che si è riversata diciamo trasportando e seppellendo le foreste siberiane che adesso diciamo decomponendosi hanno formato queste gigantesche giganteschi depositi di gas metano che fanno una ricchezza importante della russia